Anche questa sera finalmente ci ritroviamo qui a vivere questa bella esperienza. Sicuramente non è stato facile perché fino a ieri sera, dopo le ultime prescrizioni che ci sono state fatte dalla Questura, oggi abbiamo vissuto e ho vissuto insieme anche agli altri degli uffici, dell'amministrazione, momenti difficili perché fino all'ultimo non sapevamo se riuscivamo ad adempiere a tutte le prescrizioni. Ci siamo riusciti, con tante difficoltà, ma ci siamo riusciti. Il risultato penso che è sotto gli occhi di tutti, quindi siamo felici che anche quest'anno la Notte Bianca abbia avuto un buon risultato. E ovviamente ringrazio tutte le persone e tutti i dipendenti pubblici che si sono adoperati per questo evento. Quindi a partire dai vigili che si sono veramente impegnati in toto, in tutte le forze che noi abbiamo a Giulianova, con tutti i mezzi, così come l'ufficio commercio, l'ufficio manifestazioni, l'ufficio cultura. Quindi veramente un grande grazie a tutti i dipendenti comunali che hanno permesso tutto questo. Ringraziamo, io vorrei fare al nome del comune l'organizzazione della Notte Bianca e anche di quei commercianti che autotassando si hanno creato degli eventi. Soprattutto parlo della Via Nazaro-Sauro-Ovest, dove i commercianti si sono autotassati e hanno creato un evento di persone, di artisti di strada che si esibiranno dalle 10 fino alle 2, le 3 di notte. Un altro ringraziamento è per le Forze dell'Ordine, come ha fatto il Vice Sindaco. Le Forze dell'Ordine è che in seguito alla riunione del tavolo tecnico ieri in questura abbiamo dovuto aumentare come numero, perché l'area è molto più vasta, hanno dovuto aumentare anche le postazioni di Croce Rossa, protezione civile e anche con i carabinieri e con i vigili urbani che sono sul territorio per assicurare la maggior sicurezza degli avventori a questa manifestazione. e anche con i carabinieri. e anche con i carabinieri e con i carabinieri e con i carabinieri.